Ciao! La mia buona notizia è che tutto passa! Io amo particolarmente questa frase perché indica sia che durante i momenti di difficoltà è prevista assolutamente una fine, sia perché è un monito e un invito a godersi a pieno e in assoluta presenza i momenti belli. Quindi, ripetetelo con me, tutto passa! A presto!